Hai solo due settimane per studiare, la data d'esame si sta avvicinando e vorresti capire e sapere esattamente che cosa devi fare per sfruttare in modo efficace questa quantità di tempo che da un lato non è moltissima ma dall'altra è sufficiente per riuscire a concludere e quindi ottenere degli ottimi risultati. Ti voglio parlare di questo nel video di oggi ma prima di farlo voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione. Richiederlo è semplicissimo, basta inserire il tuo nome e la tua mail. Nella mail riceverai tutti i contenuti del corso, spiegazioni pratiche, teoriche, pieno di studio e tanto tanto altro quindi è gratuito, provalo, non hai nulla da perdere e sicuramente ti può aiutare. Tornando invece all'argomento del video di oggi vediamo anzitutto insieme la sigla e poi ti faccio capire cosa dovresti fare quando hai solo due settimane per studiare e vuoi ottenere i risultati che desideri. Vediamo quindi insieme come preparare un esame anche se hai solo due settimane di tempo a disposizione. Diciamo che non è lo scenario ideale perché è un po' ristretto proprio il numero di risorse non solo che abbiamo in termini tempistiche ma che possiamo investire anche da un punto di vista di tecniche e strategie di apprendimento. Comunque, andiamo con ordine. Partiamo dal considerare come riferimento questa linea orizzontale che rappresenta i giorni che possiamo dedicare allo studio. Se dividiamo questa linea nei 15 giorni, quindi di queste due settimane di studio, in modo particolare voglio farti concentrare su tre porzioni. Quindi dividiamo questi 15 giorni in tre parti da 5 giorni ciascuno, in modo tale da avere un minimo di scansione da un punto di vista temporale e anche da un punto di vista di fasi di studio. Quali sono queste fasi di studio? O queste parti? In questo caso le utilizziamo come sinonimi. La prima parte è quella della lettura, la seconda parte è quella dell'elaborazione e la terza e l'ultima parte è quella della ripetizione. Non possiamo utilizzare tantissime fasi di studio proprio perché dobbiamo agire un po' in economia, perché abbiamo poco tempo, quindi come dicevo prima non possiamo impiegare tantissime tecniche e tantissime strategie, però queste possiamo utilizzarle. La prima parte, quindi quella della lettura, la seconda è quella dell'elaborazione e la terza è quella della ripetizione, sono comunque da considerare in funzione del numero di pagine che dobbiamo studiare. E qui arriviamo a un altro limite dello studiare in così poco tempo, perché troppe pagine sono difficili da gestire. In generale qual è il calcolo che dovresti fare? Devi dividere il numero di pagine diviso il numero della parte, il numero di giorni della singola parte. In queste cose le parti durano 5 giorni, quindi il numero di pagine divise 5 giorni, in modo da sapere quante pagine devi studiare ogni singolo giorno per la parte. Adesso facciamo un esempio pratico, ovviamente quello che studi nella prima parte, poi torno a studiarlo da capo nella seconda parte e torno a studiarlo nuovamente da capo nella terza parte. Avendo comunque a disposizione tecniche diverse, il processo di studio va avanti, seppur tornando sulle stesse informazioni. Quindi per esempio, devo studiare 200 pagine, allora ho 200 pagine diviso 5 giorni, vuol dire studiare 40 pagine al giorno. Quindi la prima parte cosa farò? La lettura di queste 40 pagine al giorno, dividendo quindi le 200 totale nei 5 giorni. E lo posso andare ad applicare le stesse pagine con lo stesso ritmo, in un certo senso vado a studiarle anche per la seconda parte con altre tecniche, perché è la parte dell'elaborazione e nella terza parte vado a ripetere, al solito, un equivalente di 40 pagine al giorno. Quindi sostanzialmente, fatto questa divisione, ho, così come se fosse un ragnetto, le 40 pagine il primo giorno, le seconde 40 pagine il secondo giorno, il terzo, il quarto e il quinto. E ho completato le 200 pagine. Poi applico la stessa suddivisione, quindi torno sulle stesse informazioni con lo stesso ritmo, ma nella seconda parte con altre tecniche, stesso ragionamento, terza parte con altre tecniche. Quindi sostanzialmente torno sulle stesse informazioni per ben tre volte. Questo è estremamente importante perché non posso solo leggere una volta e pretendere di aver studiato, o ripetere senza aver nemmeno letto, o elaborare senza ripetere nemmeno leggere. Questo è uno step essenziale e fondamentale. In questo modo sono partito dal tempo che ho a disposizione, che è comunque limitato, e vado a dividere questo in tre parti operative. Quindi una prima, una seconda e una terza fase di studio. Devo suddividere il fatto che devo tornare più volte sulle stesse informazioni, e quindi tutto il materiale devo farlo passare per la prima fase di studio, per la prima parte. Quindi devo leggere tutto il materiale nella prima parte, quindi nei primi cinque giorni. Poi devo elaborarlo nei secondi cinque giorni, e negli ultimi cinque giorni devo ripeterlo. A questo punto, quindi avendo diviso, avendo organizzato le tempistiche, che devo rispettare, perché comunque preparare un esame in due settimane non è facilissimo, e come puoi immaginare, se devo suddividere più di due, trecento pagine, il carico quotidiano è così elevato che potrebbe non essere possibile farlo. Quindi voglio essere anche onesto e trasparente sotto questo punto di vista. Aggiungo un'altra cosa, perché potresti chiedermi, ok, ma quali tecniche devo utilizzare per applicare ciascuna di queste fasi di studio. Voglio puntare alla semplicità e non voglio complicarti la vita, quindi per la prima parte devi leggere, come sai fare normalmente. Se vuoi qualche informazione in più, o vuoi leggere in modo più rapido, ci sono tantissimi video nel mio canale dedicati alla lettura veloce, alla lettura efficace, in modo tale da ottimizzare davvero il tempo che hai a disposizione. La seconda fase, la seconda parte, quella dell'elaborazione, è quella legata alla schematizzazione. Puoi creare degli schemi veri e propri, o mappe vere e proprie, ce ne sono tanti, anche questi spiegati all'interno del mio canale. Ma puoi utilizzare anche altre tecniche, per esempio le flashcards. Non piacciono a tutti, non sono una strategia particolarmente amata, ma può essere una buona soluzione intanto per questo esame. Poi la adotti se non ti piace, non la utilizzi più, non la utilizzerai più in futuro. E infine la terza parte, in questo caso è un po' più semplice capire la tecnica, la ripetizione. Ripeti, farlo sempre a voce alta, non ripetere bisbigliando, ripetere a mente non è ripetere, è solo pensare. Quindi ripeti a voce alta con il ritmo che abbiamo preimpostato, che poi è lo stesso. Quindi il materiale nella prima parte lo leggerai, poi lo leggerai. Infine con la ripetizione valuti quello che ricordi e fai attenzione ad errore le emissioni. Devi sempre considerarli e risolverli ovviamente prima del giorno dell'esame. Questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi. Dubbi, domande? Puoi chiedere tranquillamente. Ti ricordo che in descrizione trovi il link per richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Ti ringrazio del tuo tempo, della tua attenzione e ti aspetto con molto piacere nel video che uscirà domani.